Ciao Fioi, oggi per Isola Fazzana faccio il risotto con sparasi viole, bisat e a zero riserva. Intanto curemo e pemo i sparasi. Lì tritiamo finalmente e teniamo i ponte. Tritiamo la cipolla del tropea, rosuiamo la sparasi e la cipolla, bagniamo con giosso del brodo, cosiniamo il tutto per 3 minuti e li spostiamo dopo su un piatto. Tessiamo i ponte delle sparasi e le tostemo in padea. Tagliamo il bisat, rosuiamo prima da una parte e dopo da quest'altra, sdontiamo qualche aroma e una volta cotto lo spostiamo. A sto punto tostemo il riso a secco, bagniamo con brodo e a metà cottura mettiamo i sparasi. Assaggemo e a fine mantechiamo con giosso d'olio all'aio, saltemo e guardè che cremetta Fioi. Impiattemo mettendo il risotto e ponte delle sparasi e il bisat, qualche foglia e la zero riserva. Sì o no Fioi, che bontà. Beo, beo, beo. Beh, a sto punto se vi ha piaciuto il video mette un like. Ciao!